Lei è uno dei pochi ebrei al mondo che non crede nello Stato di Israele. Lei ritiene che Israele non dovrebbe esistere. Esatto. Ok. Dio ci ha dato la terra di Israele quando sul Monte Sinai, dove abbiamo stretto il patto con Dio, lui disse, io vi do la terra ma a condizione che voi, lo disse chiaramente, manteniate un certo livello di santità. Infatti poi siamo stati cacciati da quella terra. Quindi, in pratica, lei dice che gli ebrei non sono stati abbastanza santi da meritarsi la terra di Israele. Dio lo sa cos'è bene e cos'è male per noi, cosa ci darà la salvezza e cosa no. Mi lasci finire. Dio ci disse però, se vi metterete contro Dio, Dio manovra il mondo. Aspetti un secondo, mi lasci finire. Dio disse, se cercherete di creare uno Stato, voi non ci riuscirete. Lei sta guardando attraverso, cerca di guardare questo mondo attraverso il buco della serratura. È come un bel... Io guardo attraverso il buco della serratura. Aspetti, mi lasci finire. Dio è misericordioso, tutto ci viene direttamente da Dio, crediamo. Ma a me sembra... Aspetti, ora rispondo alla sua domanda. Sì. Il fatto di dire che abbiamo sofferto abbastanza l'antisemitismo... Mai più. Vede, lei non dice mai più. No. Lei dice ancora. Sì. Mi faccia spiegare. Dunque, gli ebrei hanno vissuto in esilio per duemila anni sotto la protezione di Dio. Vivevamo in mezzo a civiltà occidentali. Germania, Polonia... Mi lasci finire. Ma non più. Abbiamo vissuto in tutte queste nazioni per anni e non... Quante sono state le vittime dell'olocausto? No. Adesso parla dell'olocausto, cambia argomento, va bene. Cambia argomento. Ma non parlavamo della sicurezza degli ebrei. Lei sta girando lo sacro. Lei ha detto... Insomma, quanti ebrei sono morti? D'accordo, parliamo della sicurezza degli ebrei. Ok, ok, ok. Ok. Sono sicuro che c'è... Allora, un paio di milioni di ebrei sono morti, ok? No. È così che ha detto... Aspetti. Lei è stato in Iran nel dicembre del 2006 per assistere alla conferenza del presidente. Cosa? In cui lui negava l'olocausto, il presidente del paese. Oh, oh, non paghi a bambera. Quello che Ahmadinejad ha detto... Quello... È che vorrebbe vedere Israele cancellato dalla faccia della... Quando l'ha detto, scusi, non l'ha mai detto. E che cosa ha detto? Ha detto... Voglio le parole esatte, le parole esatte. Che dovrebbe scomparire. Ha citato il... Dovrebbe scomparire. Mi lasci finire. La sua è impudenza. Mai più, rabbino, mai più. Oh, non vi scaldate troppo. No, io ho girato. Ci rinuncio.